Ah, i più azzeccati, sicuramente Gianni Musi, che ha la voce di Gandalf di Silente. Beh, vedi, ok, questo è il gioco. Stiamo parlando di una voce incredibile, che è stato anche Hercules. Non riesco a immaginarla diversamente. No, no. Sì, sì. Tanto che io mi sono sempre profuso nell'imitazione, vero? Ho sempre fatto questa cosa. Perché sono sempre stato innamorato della sua voce. Ferruccio Amendola, perché secondo me ha cambiato un po' il modo di doppiare. Cioè, fino a Ferruccio, c'è un prima e un dopo Ferruccio Amendola, secondo me. Lui ha creato questo sporco, questa voce non perfettamente lineare, non perfettamente pulita, da Atture, è vero che parla, ma lui aveva questa cosa... Un po' sporca. Questa cosa molto sporca. Sì. Ti ricordi quando facevo la pubblicità del Vernell? Sì, 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 mamma mia. E poi io vedevo Ferruccio Amendola piccoletto, nella pubblicità del Vernell, che parlava con la voce di Stallone, e mi dava fastidio. Nel senso che lui arrivava e faceva, signora, perché non prova questo cazzo di Vernell? Guardi quanto cazzo è morbido. Guardi quanto cazzo è morbido.